Che belle fragole, come sono rosse! Posato il cestino per terra, capucetto rosso si chinò sulle piantine. Come sono mature, come sono grosse, che buone! Ancora una, ancora un'altra, questa è l'ultima, anche questa. Fra gli alberi, in uno spiazzo erboso, i frutti rossi spiccavano invitanti e la bambina correva di qua e di là con la bocca piena del delizioso sapore delle fragole. Improvvisamente si ricordò della mamma, delle promesse, della nonna, del cestino e corse indietro affannata in cerca del sentiero. Finalmente, il cestino era ancora là, capucetto rosso, canterellando, riprese il suo cammino.